Assessore Cosimo Latronico, dall'ambiente alla sanità è un altro tema nevralgico della Basilica, della governanza lucana. Il passo è breve. Ecco, ci occupiamo di benessere. Abbiamo curato il benessere ambientale, ora curiamo più da vicino il benessere delle persone. Quindi è un itinerario che si va avanti, si compie. Io più che parlare di Assessore della Salute, parlerei di Assessore al benessere. Dobbiamo fare grandi azioni sulla prevenzione, sugli stili di vita, sulla qualità della vita, che sono il vero tema del presente. E naturalmente costruire poi, con la collaborazione di tutti gli operatori, una risposta alla domanda di salute e all'altezza delle aspettative. La prima sfida è quella del piano sanitario, no? Il piano sanitario è una programmazione, una messa a punto delle risorse, sia finanziarie, sia economiche, sia umane, sia strumentali. Quindi va riprecisata una logica di programmazione per sapere di cosa disponiamo, per qualificare la spesa, per finalizzarla ai bisogni primari, per contrastare sprechi, e per recuperare una fiducia piena dei cittadini lucani sul sistema sanitario pubblico lucano. Ciao! 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 Ciao!